Uno spettacolo sportivo travolgente ha entusiasmato il numeroso pubblico presente alla finale del 24esimo torneo notturno di Porzano di Leno. Lo studio Conzadori si è aggiudicato il terzo posto e due ospiti d'eccezione hanno dato lo start per la finale Gabriele Bragaglio e Matteo Buenetti del basket Brescia. Il match si chiude con la vittoria della Fiolini che batte per 6 reti a 1 BFT Burzoni con due gol di Prandi, Ferraro Avanzi, Ligarotti e Lesciai per la Fiolini e Verzelletti della BFT Burzoni. La classifica finale ha visto quindi la Fiolini vincitrice del torneo seguita da BFT Burzoni, terzo posto per studio Conzatori e Quartigalli. Il trofeo miglior portiere va a Marco Serio, la coppa del miglior giocatore a Capelloni, quella del miglior capo canoniera a Verzelletti. Il fondatore del torneo Tito Chizzolini dà con grande soddisfazione appuntamento al prossimo anno. Beh diciamo che sono contento anche perché avendolo creato con il nostro parroco Don Michele Portesani che si è iniziato con i bambini piccolini poi ha detto perché non facciamo un torneo da grandi abbiamo iniziato piano piano con squadra del paese e poi siamo arrivati a questo livello. Ecco diciamo che grazie a tutti i collaboratori siamo una sessantina di collaboratori perché diversamente non riusciamo a gestirlo e niente tutto bene dai tutto bene. Beh diciamo che le presentiamo un campo in erva che i giocatori prediligono ancora per non avere infortuni ciò che capita sui sintetici e poi abbiamo anche una cucina che è all'avanguardia e tutte le squadre finite di giocare si fermano a un prezzo che diciamo molto accessibile e mangiano bene dicono rispetto ad altri tornei qui dicono che la cucina a Porzano è il numero uno. Cioè questo è uno dei fattori diciamo ecco poi diciamo che le squadre poi diventano un po' rivali calcisticamente e i migliori giocatori che sono in giro quando chiamati a giocare a Porzano vengono volentieri a giocare nelle squadre cui sono chiamati. Una squadra che ha già vinto in sette anni è sempre andata fra le quattro finaliste è sempre andata in quelle quattro lì a un gruppo di giocatori validi e di cui un gruppo di una ventina di persone che usano in due o tre tornei i migliori diciamo che nella zona e niente è una squadra valida valida la BFT Burzoni è il primo anno che entra nelle quattro è entrato un po' a sorpresa però diciamo che ha eliminato i Galli che erano delle squadre favorite stasera purtroppo avevano avuto di fronte forse l'esperienza della Fiolini con giocatori abituati a giocare le finali dei tornei notturni contro gli altri che invece forse mancava un po' l'esperienza la cattiveria per vincere una partita di una finale di un torneo notturno ecco ok speriamo anche perché l'anno prossimo per noi è il 25esimo vorremmo riuscire a creare un colcosina di bello e poi magari io mi metterò in disparte e prenderanno in mano qualche giovanotto ecco